Allora Allora Siamo in cameretta Io e mia mamma E lei mi sta aiutando a fare la valigia Sì ma io non mi faccio vedere Non ti fai vedere? No Dai Comunque Mi sta aiutando a fare la valigia Per il tour Perché io sono un po' incasinata mentalmente E ho fatto casino Ma la cosa eclatante È che ho appena scoperto Che mia mamma Si è comprata i biglietti Per venirmi a vedere Che ne so che magari non mi fai venire E mi dici no è tutto pieno Ho capito ma sei mia madre Si è comprata i biglietti Quindi vabbè Ma venditelo scusa Venditelo all'ultimo fai un botto di soldi Duele 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 Treッili